Con Pasquale Zannetti, allenamento del 5 giugno. Buongiorno Peppe. Ciao. Pasquale, ti ritrovi sulla strada dove... Ha fatto la gran fungo. Esatto, sì, manca poco. E' gladiatura. Sì, Santa Maria Capavetere, ci stiamo dirigendo verso Caserta Vecchia. Sa meno traffico quando hanno fatto la gran fungo. Eh, infatti. E' la vista, la meno maglia. Però è una giornata caldissima. Ci aggiorniamo a dopo? 34 gradi. Eh. Sempre con Pasquale Zannetti sul corso che ci porta alla legge qua. Ciao Pasquale, Pasquale. È una giornata calvissima, è una giornata da andare al mare, vero? Sì, sì, manca da andare in bicicletta. Sì, sì, cerchiamo di mantenere le poste, visto che il caldo ci sfianca. Ah, poi ci viene una bella Coca-Cola. Poi c'è una grande Coca-Cola. La nostra direzione è Caserta Vecchia. Un saluto da partimi a tutti i pianuri a bike. Saluto anche io, a Presidente, a Giorgio. A tutti. A tutti i compagni. A tutti i compagni. Questa volta il video lo faccio io. E quindi Pasquale verrà ripreso. No, lo faccio anche io dopo. Va bene, ragazzi, con il tuo cellulare. Ok, a dopo, a dopo. Grazie. E allora, un ambiente spettrale. Un deserto. Dove? Lo ricordiamo, le 5 di giugno. Con Pasquale Zannetti di Pernona Bike. Direzione Caserta Vecchia. Direzione Caserta Vecchia. Bisogna tenere un dispenso di forze. E bere molto. E mangiare. Ok, a dopo. Vai Pasquale, va? A dopo. A dopo, Pasquale. Volevo complimentarmi con Pasquale con la sua splendida forma. Infatti sto a stento indietro. Ma oggi Pasquale mi sono appresantito. Ti mangiare, per passare? Eh, sto mangiando molto, sì. Subito mi metto in forma. Sì. E qua già a maggio, ormai, a giugno, qua. Comunque. Caserta Vecchia, per Pasquale Zannetti. Ricordiamo Zannetti Bike. Aderite a questo gruppo. Zannetti Bike. Con la sua maglia ischitana. 200 km. No, è in schiava. La terapia è in fronte dì. La terapia è in fronte dì, sia così. Ok Pasquale, a dopo. Ciao, ciao. Ciao Pasquale. Lello, allora, non è qui. Con Lello Poiano, in diretta da Caserta Vecchia. Ciao Lello. Siamo in diretta. Ehi, ti stai salutando. Siamo in diretta da Caserta Vecchia, Lello. Ciao. Ciao Lello, ciao. Ci manchi Lello? Ci manchi. Ok. Sempre con Pasquale Zannetti, da Caserta Vecchia, su questo splendido panorama. Ah sì, vedociate. E lo so. E vabbè Pasquale. Questa è un'occasione buona per fare questo servizio. È un'occasione, l'onore buona, di pedalare al tuo fianco. Eh. Ricardino, noi ricordiamo tutti i piano da bai che a Giorgio Manciapiglia ha detto la guaglia, il nostro grande amico. Ti aspettiamo. Sopra Caserta Vecchia. Sopra Caserta Vecchia. Luca Romano, Giorgio Depenza. Il nuovo presidente Carmine Nido. Carmine, stiamo sfidando il caldo. Sono 40 gradi. E si continua a salire. Ricordiamo il 5 di giugno. E allora, per la irta, manca poco per caserta. Allora, i miei complimenti a Pasquale Zanetti. Pasquale Zanetti per la sua forma. Il sottoscritto oggi alle gambe di legno. Ma non è vero, Peppe. No, 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 ma io sono uno. Siamo in una presenza. Eh, forse. Forse è una mattina quando mi lavo. Sì, dove viene uno secchi d'acqua per piacere? Magari. No, non ce l'hai. Niente. Ma se viene uno secchi d'acqua, qual è la porra? Oh, era la doccia. Com'è già? Caserta Vecchia. Un percorso dure e aspro.